Uno degli aspetti che hanno caratterizzato in maniera evidente la stagione del Gubbio fino a questo momento è stata la discontinuità per quanto riguarda le partite giocate in casa piuttosto che fuori. Fino ad oggi infatti era arrivata una sola vittoria in trasferta all'ultimo secondo contro la Pistoiese, mentre in tutte le altre partite non eravamo riusciti ad ottenere la vittoria. In casa al contrario avevamo fatto tante vittorie anche per 3-0, 4-1 eccetera eccetera mostrando una netta differenza tra le partite tra le muramiche piuttosto che quelle giocate fuori. Per questo dopo la vittoria per 3-0 contro la Vispesero ero un po' timoroso perché era uno sconto diretto importante, era una partita difficile su un campo ostico ed ero in trasferta. Quindi vai a pensare, cavolo ho vinto in casa, tanto ho bilanciato in questo modo la probabile sconfitta fuori ed invece abbiamo fatto probabilmente la migliore partita in trasferta. Una delle partite migliori non solo in trasferta ma di tutta la stagione rosso-blu. Veramente ci voleva ottenere questi tre punti, ci voleva vincere per vendicarci sportivamente parlando della sconfitta ottenuta in casa sempre contro il Siena. Una vittoria di rimonte, una vittoria che dimostra che il Gubbio non vuole arrendersi mai nonostante i nostri avversari. Abbiamo trovato un gol molto bello con Caccavallo ma su una delle poche occasioni offensive create sia nel primo che nel secondo tempo. Non ci siamo disuniti, abbiamo avuto la forza di reagire ed è questo l'aspetto che più è mancato quest'anno. Io adesso non voglio fare primavera con una ronglina, ho detto il proverbio in maniera diversa però avete capito il senso. Ma può essere un segnale per un cambiamento anche sotto questo punto di vista perché per poter migliorare si deve vincere sia in casa che fuori ovviamente. Bilanciando un pochino comunque le vittorie e le sconfitte. Ma al tempo stesso non bisogna arrendersi alle prime difficoltà e purtroppo finora il Gubbio non appena prendeva un gol. Tu già sapevi che in qualche modo o la perdeva o difficilmente la riusciva a recuperare. Invece oggi non ci siamo arresi, abbiamo continuato ad attaccare senza fermarci mai. Arena veramente prestazione sontuosa, veramente uno dei giocatori più forti che ho visto al Gubbio negli ultimi 7-8 anni minimo. Che serve l'assist per il gol del 2-1 di D'Amico e fa una prestazione clamorosa, veramente sotto tutti i punti di vista. Ma oggi veramente lui meglio ma tutti quanti mi sono piaciuti. Nessuno ha fatto una prestazione sottotono. Tutti quanti sono rimasti su altissimi livelli e sono contento perché ultimamente è stato criticato un po' troppo secondo me dalla piazza che Sarau si sia procurato tramite il tiro che poi ha portato al fallo di mano del loro difensore il rigore dell'1-1 segnato da Samins Masa. È vero, non ha segnato lui, però è stato utile e ci fa capire che in una squadra non devi per forza segnare per essere importante ma puoi anche dare il tuo contributo in diversi modi con un assist, con una giocata, con un recupero palla e in questo caso un tiro che poi porta al fallo di mano. Quindi sono contento perché tutti quanti sono stati protagonisti di questa vittoria e soprattutto è una vittoria che ci può cambiare il percorso fatto finora. Comunque può cambiare i nostri obiettivi perché le partite si stanno incastrando nel modo giusto, i risultati ci stanno andando a favore anche per quanto riguarda le altre sfide, quindi possiamo ancora dire la nostra. Attualmente siamo credo a 3-4 punti dal sesto posto, che è comunque un obiettivo importante, e sabato avremo la Lucchese, poi successivamente l'Ancona. Due sfide molto importanti e possiamo dire, non so se l'Ancona è subito dopo, però comunque siamo lì, e sono due partite molto importanti perché potrebbero effettivamente svoltare la nostra stagione. Io non voglio dirlo per gufarla, per amor di Dio, anzi, però è una caratteristica delle squadre di torrente, cioè io ricordo molto bene il primo anno che siamo andati in C1, non voglio dire che adesso andremo in Serie B, per l'amor di Dio, quella stagione iniziamo male in maniera discontinua, poi troviamo la quadra e riusciamo appunto a fare quello che tutti quanti noi del Gubbio sappiamo. Non voglio dire niente, per carità, ma se riesce a crescere sotto questo punto di vista, dimostrando maturità, come è successo oggi anche in territori diversi dal Barbetti, allora le cose cambiano, allora puoi effettivamente migliorare una stagione che comunque è positiva, assolutamente, ma che può diventarlo ancora di più. Quindi complimenti a tutti, veramente sono contento di questa vittoria che ci voleva, seconda vittoria consecutiva. Ora non fermiamoci più perché martedì c'è l'Imole, sabato ci sarà la Lucchese, due partite difficili soprattutto perché giocheremo praticamente a tre giorni di distanza dalla sfida di oggi e dobbiamo darci continuità perché possiamo ancora fare meglio di quello che si è visto finora, che è comunque molto positivo. Un saluto a tutti, sempre comunque forza Gubbio, un saluto da me e dal mio collega Marchese Rossoblu, lasciate tanti mi piace per supportarci e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, i link degli altri nostri profili social li trovate in descrizione. Un saluto a tutti e alla prossima!